Non hanno accettato l'offerta di Danilo D'Ambrosio, si era abbassato, mi sembra, l'ingaggio per rimanere all'Inter, vero interista, ma niente, Danilo pure ci lascia perché non hanno consentito questa formula. Togliete, togliete, togliete tutti, ma spero che rimpiazzate qualcosa, i conti si fanno dopo, bestemmiamo dopo, i conti si fanno dopo. Grazie Danilo, un professionista serio, duttile e utile quando è servito, un professionista serio, del resto anche come Andanovic e compagnia. Danilo D'Ambrosio ci saluta, non hanno accettato la sua proposta dell'ingaggio, comunque speriamo bene, speriamo bene, ma io non mi fidero mai di questa società, ma ciao Stel.